E' partita a pieno ritmo la stagione balneare nel lungomare di Pesaro, dove le spiagge in questi giorni, complice il bel tempo, sono state prese d'assalto da cittadini e turisti. I titolari degli stabilimenti balneari guardano con ottimismo anche e soprattutto ai prossimi due mesi, quelli di luglio e agosto. Talmente alte le richieste per gli ombrelloni, sia da parte dei clienti stagionali che giornalieri, che non sempre i bagnini sono riusciti a trovarne per tutti. Sembra invece essere stato risolto il problema della mancanza degli ombrelloni per i turisti. Qualcuno di loro ne ha già riservati un buon numero per quando questi arriveranno in città. Insomma una stagione che quest'anno riparte ancora meglio, anche per via del fatto che la maggior parte della popolazione è già stata vaccinata. Rimane ancora aperto infine il problema dei lavoratori stagionali. Alcuni titolari di stabilimenti balneari sono ancora alla ricerca di baristi e camerieri da impiegare nei loro chioschi sulla spiaggia. La stagione 2021 finalmente è partita, come sta andando? Bene, un po' di movimento nel weekend c'è stato, soprattutto lo scorso weekend. Caldo e caldo. I turisti sono arrivati, avete risolto il problema degli ombrelloni che inizialmente sembravano mancare per i turisti? Ancora a giugno sì, stiamo riuscendo a coprire gli alberghi. Dopo luglio e agosto non lo so. Confermati invece gli stagionali da parte dei clienti? Anzi, anche da parte dei stagionali c'è stata molta richiesta e abbiamo dovuto dire molti no anche agli stagionali. Voi tanti altri state cercando, insomma siete ancora alla ricerca di lavoratori stagionali. Sì, esatto. Adesso oggi pomeriggio un altro colloquio, vediamo, speriamo. Abbiamo molte richieste anche per luglio e agosto. Ad agosto siamo pieni e ci sono parecchie richieste dei turisti ed è questo molto positivo per la stagione. Capitolo lavoratori stagionali, come siamo messi? Ah, quello è un bel dilemma. Noi abbiamo bisogno, stiamo cercando del personale ma non si riesce a trovare, è molto difficile quest'anno. Che figure cercate? Noi cerchiamo dei camerieri che fanno solo il sabato e la domenica per la zona ristorante. Sta andando abbastanza bene e gli stagionali hanno riconfermato i propri ombrelloni e abbiamo risolto anche il problema degli ombrelloni per i turisti. Cercate nuove figure per quest'anno oppure siete a posto? Abbiamo rinnovato lo staff e per ora siamo al completo. Le richieste ci sono ma gli ombrelloni non ce ne sono tantissimi. Io per fortuna sono riuscito a sistemare i miei mensili, i miei stagionali, per quello tutto a posto. I turisti? I turisti ancora ce ne sono pochi. In giugno ancora c'è le scuole, tutto deve finirsi, si assesterà per luglio, luglio-agosto. Si spera di avere i mensili di luglio, i mensili di agosto e via.